Questa animazione è un serrano dentro silenzioso. Ouvronmo di i mudori di ciò che sovano da circa l'appassionati di moto. Ma oggi è assurdo di diversa dell'ambiente, un libiage dentro questa manifestazione. Pierfrançois Angelini è il presidente dell'assurdo falazorme sempre io, sububbriedario di una residenza di turismo, faceva là dentro questa manifestazione. Una manifestazione come questa, che è stata a priori subvenzionata per l'ATC, per me è inconcevabile, con la politica che mene l'ATC a l'ora intenziale, che parla di un turismo che deve passare al vero. Là, il turismo è andato a passare al rouge, voire anche al noir. Ciò che scuola è l'assurdo di abigenza di un vestigio con una zona natura 2000. Secondo l'ecologista, Eurimo ripudere a dire già l'anima, i presenti in un giro conto, si diventano l'organizzatore. Le propos tenuti sono delle inepti. Io non vedo come dei decibeli possono nuire alla natura, come dei decibeli polluono e come la musica nuisce alla natura. A meno che delle chansone corse polluono meno che della musica pop-rock, io non comprendo bene dove vuoi iniziare. E io penso che quando si parla di decibeli, non abbiamo molti altri argomenti. La meria di Galleria sostiene la manifestazione e punta un sbaglio che sarebbe stato fatto da un astra soggio, quello di Levant. In questa gara, la rappresentazione di un viore medioevo e delle zone proteste sarebbe rinnovate. Dio Zolato, a brevetura di Gizmonte, dice che questa manifestazione è un merito di amica devaluazione a un livello dell'ambiente. Grazie a tutti.